Non c'è storia ragazzi, quando mi viene voglia di focaccia, qualsiasi cosa a disposizione ce la preparo e stavolta il cavolo cappuccio viola che ho utilizzato per realizzare l'impasto della focaccia che ho condito poi con cipolla e cavolo cappuccio viola e per giunta olivetta giasca, intanto come vedete olio extravergine di oliva, mezzo chilo di farine misse, tutte quelle che avevo a disposizione, 300 grammi circa di acqua di cottura del cappuccio viola e anche 150 grammi di cappuccio viola frullato, quindi è meglio di così. Una focaccia assaporita, gustosa, morbida, soffice, da realizzare in poco tempo. Dopo aver preparato questo impasto l'ho messo a lievitare in forno spento con la luce accesa per un paio d'ore, poi l'ho ripreso, l'ho steso su una teglia, la leccarda del forno, unta ma senza carta forno e poi condito. Ho cotto a 250 gradi per 10 minuti, forno statico, poi 200 gradi per 20 minuti, sempre forno statico, per ultimo forno ventilato abbassato a 180 gradi per altri 10 minuti. Questa focaccia con il cavolo cappuccio viola è pronta. Che ne dite? La preparate anche voi? Ma poi fatemi sapere e ricordatevi di seguirmi. Vi aspetto! Grazie! Grazie!